Radio Tush Evans Il Centro di Ricerche per la Storia dell'Alto Lazio presenta Incontri a Palazzo Papale, gli archivi delle chiese parrucchiali della diocesi di Viterbo e questa cura di Elisa Angeloni e Luciano Osbat che presenteranno il libro che ricostruisce la storia e presenta l'organizzazione degli archivi parrucchiali di Viterbo. Alle 16.30 nella sala teatro del Murialdo in via caduti del nono stormo di Viterbo il Lions Club Viterbo presenta per le letture americhe l'Iliade e la professoressa Natalia Tulli del liceo classico Mariano Buratti spiega il libro ventiquattresimo Il pianto che unisce. Oggi presso il Cinema Gallery in via Cardinal Salotti a Montefiascone sarà possibile vedere Il viaggio di Arlo, Gli ultimi saranno ultimi e Hunger Games, Il canto della rivolta 2. Il viaggio di Arlo verrà proiettato alle 17 e alle 19, Gli ultimi saranno ultimi verrà proiettato alle 19.30, mentre Hunger Games, Il canto della rivolta 2, alle 17. Per oggi è tutto, vi auguro di passare una bellissima giornata e buon divertimento!